In quel tempo, gli iscrivi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro sé stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà sacchezzargli la casa. In verità, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, ereo di colpa eterna, poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. E' faticosa l'interpretazione di questo Vangelo, e non credo solo per me. Ed ecco la frase che ci inchioda. A chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Che vorrà dire? Che significa questa bestemmia contro lo Spirito Santo? E dire che se ne sentono di bestemmi in giro. Ignoranti e rozzi bestemmiano la Madonna, Gesù, i Santi, ma direi che neppure i più incalliti tra loro hanno la creatività di bestemmiare lo Spirito Santo. Però non è su questo piano che si pone Gesù. Che vuole dirci? Azzardo un'interpretazione. Chi è lo Spirito? Lo sappiamo. La terza persona della Trinità. E qual è il suo proprio? È dare la vita. Lo Spirito vivifica. Fa anche tante altre cose, ovviamente, ma il dare la vita è fondante. Ricordiamo tutti quanti quella immagine del profeta Ezechiele al capitolo 37, dove lo Spirito dai quattroventi soffia sui morti perché rivivano. Ecco, lo Spirito è colui che ci restituisce la vita. Quindi che ci vuol dire, Gesù? Che se non accogliamo lo Spirito, moriremo nei nostri peccati. Non c'è possibilità di perdono. È la disperazione. È il voler chiudersi alla vita, alla speranza. È il dire un no consapevole a quel lucignolo fumigante che ancora ci consegna luce sufficiente negli abissi del peccato. Qui Dio non ci può fare più nulla. Quindi la bistemmia è lo Spirito Santo, il non volersi più aprire alla vita, è il decidersi per la morte, è il non voler più ritentare la via del ritorno a casa. Eppure la vita è imprevedibile. Si schiude anche in condizioni impossibili, come quei fiori che nascono in mezzo alle rocce sui duemila metri. La vita è un ponte che d'improvviso si distende sulle acque delle nostre paure, così come cantavano Simon e Garfunkel. E su quel ponte abbiamo la possibilità sempre di passare. Grazie. 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 Grazie.